Bene, quindi l'onorevole Leontini ci tiene a dire che è stato lui uno degli artefici dei famosi fondi ex insice, che ancora sono in giro, certo che poi per fare la perrima c'erano 40 anni. Allora, dell'aeroporto abbiamo parlato, vi ricordo giorno 7, invece parliamo del castello di Donna Fugato. Perché del castello? Perché un'idea del comune sono i PSPP, che sarebbe partenato speciale pubblico privato. Ora, si sono resi conto che, una cosa che noi diciamo da secoli, che non si può limitare il castello o comunque certi beni culturali ai meri orari degli impiegati comunali. Giustamente un impiegato comunale fa il suo lavoro e basta. Che può stare fino a mezzanotte alle due a gestire il castello di Donna Fugato? Sarebbe bellissimo, ce ne siamo accorti quando c'è stata qualche iniziativa che permetteva di visitare il castello di notte, con dei gruppi, era molto bello. Come alcune altre realtà, come Palazzo Zacco, beh, lì di notte, mangoncisse perché mi scandazze a dire la verità. Oppure come un'altra cosa, cos'è? Ah, la Sala Falcone e Borsellino Libla. La Sala Falcone e Borsellino Libla è un piccolo teatro. E quindi se ci fosse un partenariato, qualcuno che se la prende in gestione, però attenzione, gratis, non è che puoi fare come si è stato fatto in certe altre occasioni dove i costi sono enormi e il gioco non vale la candela come era per esempio il bar all'aeroporto di comizio. Quindi c'è questo bando. In pratica, per 30 giorni è pubblicata questa delibera. Chi vuole può fare un progetto per gestire, ma gestirlo dal punto di vista del personale e anche economicamente, perché se tu realizzi qualcosa che fa soldi, perché no? Insomma, quindi tutte queste cose mi sembrano delle cose interessanti e io dico perché no? Perché no? Mi pare una buona cosa. Queste sono notizie che ci arrivano dal comune di Ragusa. Poi ci sono tante altre notizie. Una interessante è quella che dice che finalmente andremo ad asfaltare la via Achille Grandi, che sarebbe dalla splendida rotatoria che saluta Ragù quando uno arriva con le cose quelle gialle, che poi non si capisce più cosa c'è in quella rotatoria, no? Una volta vuole fare un ammasso di... vabbè. Da lì fino ad arrivare alle masserie, perché l'asfalto fa schifo e verrà rifatto e questa è una buona cosa. Io però se potessi farei anche la via Achille Grandi di sotto, cioè farei quella dove c'è il carcere, perché vi devo dire è un'altra gimmicana, ci sono circa 40 tombini e tutta la macchina fa sempre... quindi sarebbe una cosa. Andiamo a parlare di acqua. Noi avete visto, siamo sempre pronti a parlare dell'acqua del nostro territorio. Con gli interventi della regione, un po' l'intervento del comune, ci sono delle realtà, si è parlato in questi giorni della questione Pozzallo e della famosa nave che dovrebbe prendere l'acqua a Pozzallo, ma a quanto pare c'è qualche polemica. Sentiamo Giovanna Canizzaro.